Ci pensano i dati a dimostrare la costante presenza sul territorio da parte di Aset S.p.A. Sono stati infatti 6.023 gli interventi messi in atto nel 2021 dagli ispettori ambientali della Società dei Servizi nei Comuni di Fano, Fossombrone, Colli al Metauro, Pergola e San Costanzo. L'azione, come hanno spiegato in una nota, è prima di tutto preventiva. Infatti più di 1.600 utenze domestiche sono informate sul corretto conferimento dei rifiuti. A queste si aggiungono 327 enti, imprese e attività commerciali. Circa 2.000 in tutto i contatti di persona o telefonici per invitare gli utenti a mantenere un comportamento virtuoso o per spiegare loro caratteristiche e funzionamento dei nuovi servizi. Ma non solo prevenzione. Lo scorso anno Aset ha effettuato 25 appostamenti ed oltre 1.200 verifiche fotografiche. Quest'ultime sfociano spesso in sanzioni. Sono state 383 le foto allegate ai verbali. Numerose anche le segnalazioni scaturite dal monitoraggio delle telecamere e poi inviate alla polizia locale. In totale 241. Sono state 7 invece le segnalazioni ad altri organi di vigilanza. Se a questi ultimi due dati si aggiungono i verbali non scaturiti dalla videosorveglianza, frutto di ispezioni su rifiuti, ma anche di appostamenti o per utenti colti in fragrante, il totale della documentazione inviata ai vigili urbani raggiunge quota 645. Fondamentali poi le segnalazioni dei cittadini, spesso tramite il numero verde. Lo scorso anno sono state 363, praticamente una al giorno. Inoltre Aset è intervenuta 105 volte in un anno per la rimozione di rifiuti e dopo i 1.000 composter controllati, sono stati emessi 7 verbali per le regolarità nel compostaggio domestico con la revoca della riduzione della Tari. Infine, sono stati oltre 3.300 i conduttori di cani controllati, in particolare per verificare il possesso dei sacchetti per la rimozione delle deiezioni degli animali.